L'ipoteca sulla qualificazione alla doppia finale c'è ma l'opera va completata domenica prossima nella gara di ritorno. Con vincente esordio del Città di Gallipoli nei playoff nazionali del campionato di eccellenza, i salentini battono 2-0 il Città dei Sassi Matera nella semifinale d'andata con un gol per tempo. Apre Iurato intorno alla mezz'ora della prima frazione raddoppia, Sansò nel corso della ripresa. Al bianco di Gallipoli si affrontano le due rappresentanti di Puglia e Basilicata che hanno mancato la promozione in Serie D attraverso la porta principale e puntano tutto sul percorso alternativo per approdare comunque nel principale campionato del calcio dilettantistico. Pericolosi in avvio i padroni di casa scesi in campo in maglia bianca, Caputo riceve da quarta, prova a piazzarla di precisione, Putti è attento e arriva sulla traiettoria. Ancora più pericolosa la replica dei Lucani, poderosa la conclusione con il destro di Pentimone superlativa, la replica dell'estremo dei Gallipolini passa a SEO. La partita si gioca sulla distanza dei 180 minuti, ecco perché tratti di tatticismo e attenzione in fase difensiva non mancano di certo da una parte e dall'altra. L'equilibrio si spezza però poco dopo la mezz'ora, iniziativa autorevole di quarta che fa eruzione in aria e crossa verso il centro. Il portiere ospite smanaccia ma lo fa però sulla testa di Iurato. Palla nel sacco, 1-0. Provano a reagire subito gli uomini di Nicola Mongelli. Tragni ruba palla a Piscopiello, prova a colpire sul primo palo a Macefruci che risolve per il città di Gallipoli. Proteste degli ospiti per questo tocco rischioso in aria di rigore ma il direttore di gara lascia correre. Buon finale di tempo per il città dei Sassi ma il risultato resta invariato sino all'intervallo. Ripresa, i materani ci provano dalla distanza con la sventola di De Sousa, tentativo murato. Cinico e spietato invece si rivela l'undici Gallipolino che trova intorno all'ora di gioco il punto del raddoppio con uno splendido destro a giro di Sansò. Il 2-0 è servito per i Salentini. Provano almeno ad accorciare le distanze Lucani ma la conclusione dell'entrato lo vecchio è imprecisa. Non sortiscono gli effetti sperati anche i successivi tentativi degli ospiti. I Leccesi resistono e custodiscono il prezioso doppio vantaggio sino al triplicefischio. Appuntamento ora a domenica prossima al 21 settembre Franco Salerno di Matera per la decisiva partita di ritorno. Il città di Gallipoli, inutile nasconderlo, partirà con un considerevole vantaggio verso la rincorsa alla finale dei play-off nazionali di eccellenza.